Il settore di polizia di frontiera di Ventimiglia ha fatto scattare alle prime ore dell'alba di oggi una vasta operazione di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani. In manette sono finiti 10 stranieri, tra cui una donna. Vediamo. Nell'ambito di un'operazione denominata Sharuncio e Caronte, tradotto dall'arabo, sgominata banda di trafficanti di esseri umani. Dieci passori, infatti, sono stati arrestati dalla polizia di frontiera di Ventimiglia. Le indagini sono durate circa un anno, tempo in cui gli investigatori hanno avvallato l'attività criminale che gli uomini e una donna da Ventimiglia trasportavano clandestini in Francia. La finalità dell'indagine era quella di riuscire a dimostrare che questi viaggi hanno dietro quella che non hanno organizzato dal punto di vista giuridico, ma che c'è un'abitualità delle condotte. E cioè che queste persone hanno proprio come loro scopo principale quello di aiutare questi extra comunitari ad andare all'estero. E quindi, insomma, è per quello che l'indagine ha durato un po', perché ci sembrava che soltanto durare l'indagine per un certo periodo e dimostrare che sono tanti i fatti a poter dare quella consistenza anche dal punto di vista della contestazione che consentisse poi di avere un processo dove anche le sanzioni fossero adeguate al fatto. Insomma, perché è un po' la filosofia quella che quando uno fa l'indagine vuole poi portare a far sì che il processo abbia una sanzione corretta rispetto alla gravità dei fatti e quindi evitiare queste cosiddette porte girevoli che uno viene arrestato e scarcerato il giorno dopo perché non si riesce a dimostrare che c'è l'abitualità. Ecco, questa indagine dalle intercettazioni dimostra che c'è l'abitualità. Cioè che queste persone un giorno portano un clandestino, l'indomani sono già a cercarne altri da portare. Quante persone coinvolte in totale? L'indagine è di... ad oggi sono 12 indagati, 10 sono attenti da misura cautelare, 7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Sono tutti stranieri? Sono tutti stranieri, tendenzialmente tra tunisini, algerini, un libico e poi c'è anche una cittadina albanese. Però diciamo, tendenzialmente sono soggetti, diciamo, del Maghreb. Com'è iniziata questa indagine? L'indagine è iniziata perché abbiamo alcuni soggetti che alla Polizia di Frontiere di Ventimiglia sono ormai conosciutissimi e si è passati quindi da quello che sono le voci, cioè il fatto che questi portavano i clandestini ai fatti. Quindi sono stati fatti un po' di pedinamenti, di contratti, si sono stati visti incontri, filmati, da lì abbiamo chiesto le intercettazioni, da lì dalle intercettazioni, mano a mano sono arrivati i riscontri, fermati i clandestini, insomma. Quindi un'attività di Polizia Giudiziaria classica. Sarebbero 16 gli episodi differenti degli arrestati tutti abitanti nell'imperiese, alcuni anche regolari sul territorio italiano. Un'indagine laboriosa che ha permesso di delineare l'attività. Noi attraverso l'attività investigativa abbiamo cercato di rafforzare quella grande nostra ipotesi perché inizialmente attraverso una serie di arresti anche in flagranza di reato abbiamo comunque capito che c'è questo fenomeno evidentemente sul territorio di Ventimiglia e dintorni. Ripeto, attraverso l'attività investigativa con delle intercettazioni telefoniche abbiamo alzato il livello e quindi siamo riusciti a dimostrare che effettivamente queste attività erano radicate sul territorio e quindi determinati soggetti anche attraverso chiaramente una condotta criminale volta anche alla disumanità nei confronti spesso di loro con nazionali e chiedendo chiaramente in cambio del denaro accompagnavano oltre la frontiera delle persone con cui ero regolari sul territorio nazionale. Che tipo di attività avete fatto? Abbiamo fatto un'attività intanto tradizionale quindi il classico pedinamento, gli appostamenti, delle fotografie e poi abbiamo anche fatto un'attività tecnica quindi delle intercettazioni telefoniche nei confronti dei soggetti che abbiamo ritenuto essere responsabili di questo reato. In cambio di 200 euro i passori assicuravano ai clandestini un passaggio sicuro in Francia un modus operandi che però cambiava di volta in volta trasferimenti in auto, viaggi in treno e anche in pulma per fare oltrepassare ai migranti la frontiera a loro interdetta. L'Assemblea dei Sindaci per Riviera Acqua convocata oggi in comune a Sanremo è saltata per mancanza di numero legale. In ogni caso i sindaci presenti hanno avanzato delle richieste al commissario regionale in merito all'ingresso dei comuni mancanti dalla compagine della società pubblica. Sentiamo. L'Assemblea dei Sindaci dell'ambito idrico imperiese andorese riunitasi oggi nel Palazzo Comunale di Sanremo ha visto ancora una volta come già accaduto in passato la mancanza del numero legale soprattutto per le assenze dei rappresentanti dei comuni minori. I sindaci presenti hanno comunque chiesto al commissario regionale Gaia Checucci di mettere in atto le azioni necessarie per l'ingresso nella società pubblica dei comuni che ancora non ne fanno parte. Per il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappoli che ha anche chiesto la verifica precisa del valore di acquisizione delle reti di Amat Imperia a suo tempo stimato in 23 milioni di euro l'ingresso di tutti i comuni nell'ambito è la condizione imprescindibile per poter in seguito decidere in merito all'eventuale ingresso di soci privati in riviera acqua. Anche sulla quota che dovrebbero avere i privati il dibattito è aperto e si discute su percentuali che variano dal 30 al 49%. Intanto il prossimo 26 febbraio nel Tribunale d'Imperia ci sarà l'ennesima udienza per la procedura di fallimento intentata a carico di riviera acqua dall'Amat d'Imperia che lamenta il mancato pagamento di fatture per oltre 2 milioni di euro e molto dipenderà da cosa decideranno i giudici imperiesi a meno che non vi sia l'ennesimo rinvio. È stato presentato ieri sera al Consiglio Comunale di Imperia il bilancio di previsione per l'anno in corso. Il documento economico prevede una chiusura a pareggio a 140 milioni di euro e contiene diverse decine di milioni derivanti da contributi destinati a opere pubbliche come ci ha spiegato l'assessore alle finanze Fabrizia Giribaldi. L'assessore Giribaldi, allora bilancio di previsione approvato le cifre quali sono, come sono insomma intanto stiamo meglio come Cassa del Comune d'Imperia? Siamo meglio? Sicuramente sì il bilancio è stato approvato non è stato ancora approvato per la verità perché la procedura è piuttosto lunga ieri è stato presentato al Consiglio Comunale che lo approverà se riterrà di approvarlo tra 15 giorni quindi il Consiglio Comunale adesso ha 15 giorni di tempo per leggersi le carte e decidere il da farsi questo è un bilancio come ho detto ieri sera innovativo rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora per tutta una serie di motivi per dei motivi piuttosto più semplici che sono per esempio l'accorpamento di alcuni capitoli di spesa che consente una gestione più agevole dei conti attraverso il finanziamento di ciascun settore con delle cifre che consentono le manutenzioni nei settori senza passare dai lavori pubblici ci sono stati dati 50 mila euro alla cultura 50 mila euro allo sport 100 mila euro al commercio e così anche agli altri settori perché possano affrontare direttamente quelle piccole manutenzioni che prima prevedevano il passaggio attraverso il settore dei lavori pubblici per cambiare una lampadina bisognava fare una strada che non finiva più ma la cosa veramente importante di questo bilancio da 140 milioni di euro è l'appostamento di 32 milioni e 153 mila 890 euro di finanziamenti di contributi a fondo perduto che il Comune d'Imperia riceverà nell'anno 2020 contributi che il sindaco in testa e tutti gli assessori sono andati a cercare in Europa sono contributi dello Stato qualcosa della regione qualcosa anche di privati che consentiranno di fare 32 milioni di lavori pubblici 32 milioni è una cifra enorme voglio dire si 32 milioni è certo proprio questa è la novità 32 milioni sono una cifra enorme e saranno impiegati nelle maniere più disparate dalla pista ciclabile ai lavori di rifacimento e manutenzione di tutto quello che si è tutto insomma buona parte di quello che si è danneggiato con gli eventi calamitosi del 2018 e del 2019 ma anche tanti lavori utili per la città che vanno dall'inizio dell'operazione di completamento della bretella di Caramagna a tanti altri lavori che sono il completamento per esempio del teatro Cavour si spera di arrivare finalmente all'apertura del museo navale e anche tanti lavori diretti sulla sulla città insomma un bilancio che ci dice che vedremo un'imperia cambiare ulteriormente da qui a un anno poco più sicuramente nel primo vero anno importante di lavori che è del 2020 ma che continueranno anche nel 2021 e nel 2022 in merito alla vicenda della creazione di un allevamento di pesci al mare antistante a imperia l'amministrazione comunale ha fatto sapere che la procedura è stata avviata anni fa con tutte le necessarie autorizzazioni il comune quindi vigiliderà sull'opera ma non la può fermare sentiamo da parte dell'amministrazione comunale non c'è stato alcun via libera o sostegno all'operazione nel mal progetto non può essere fermato a meno di rischiare gravosi contenziosi questo quanto evidenziato dall'assessore al commercio di imperia Gianmarco Oneglio in riferimento al progetto di allevamento di pesci previsto nel tratto di mare davanti alla galeazza di Oneglia è oggetto di un'interrogazione da parte del consigliere di opposizione Guido Abbo di imperia al centro Oneglio ha sottolineato che il progetto aveva preso il via addirittura nel 2008 con la presentazione di una richiesta di una concessione per 15 anni al comune da parte di una società del Tiguglio la concessione era stata rilasciata poi la società era fallita ne era subentrata un'altra che aveva ottenuto l'autorizzazione a proseguire nell'iniziativa per questo secondo Oneglio avrebbero dovuto essere le precedenti amministrazioni comunali a intervenire nel merito l'assessore al commercio evidenziato con uno stop oggi da parte del comune provocherebbe quasi certamente un pericoloso e aspro contenzioso giudiziario con la ditta il progetto prevede l'installazione di un allevamento in gabbie dalla costa della Galeazza e l'amministrazione comunale ha garantito di aver comunque avviato tutte le verifiche del caso che ancora stanno andando avanti e che verrà stabilito cosa fare sulla base di garanzie di legge e nell'interesse pubblico Sarà inaugurato in anticipo il nuovo viadotto lungo la A6 Savona Torino in sostituzione di quello abbattuto da una frana nel novembre scorso la corsia autostradale riaprirà il 21 febbraio in anticipo sui tempi previsti il servizio l'inaugurazione del nuovo viadotto Madonna del Monte sulla A6 Torino Savona crollato a causa di una frana lo scorso 24 novembre per fortuna senza causare vittime o feriti verrà riaperto e inaugurato il 21 febbraio alle 11 in anticipo sul crono programma di realizzazione dell'opera che prevedeva l'inaugurazione per il 7 marzo il nuovo viadotto è costituito da un ponte in acciaio calcestruzzo lungo 58 metri a campata unica i lavori cominciarono lo scorso 13 dicembre dopo di sequestro dell'area e lo scorso 27 gennaio erano già stati collocati gli impalcati metallici destinati a sostenere il peso del transito dei mezzi il 21 febbraio a soli tre mesi dal crollo del viadotto la tratta autostradale potrà quindi essere finalmente riaperta al traffico risolvendo il problema che si era venuto a creare nei collegamenti fra Savone e Torino fondamentali anche per il commercio legato al porto e all'area industriale di Vado Ligure eliminando il rischio di code o uscite obbligatorie dall'autostrada l'acciaio cortenno utilizzato per il nuovo viadotto è dello stesso tipo di quello impiegato nella ricostruzione di Ponte Morandi a Genova e ha la caratteristica di essere maggiormente resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici la Liguria si pone quale prima piattaforma per le crociere in Italia lo ha evidenziato il presidente della regione Giovanni Totti sottolineando l'importanza economica di questo particolare aspetto del turismo e allo stesso modo anche l'importanza dei porti della Liguria il servizio le crociere rappresentano uno dei settori che ci ha dato le maggiori soddisfazioni in Liguria in questi anni tutti e tre le nostre piattaforme croceristiche crescono e tutte e tre mirano ormai al milione di passeggeri e oltre il che fa della Liguria la prima piattaforma croceristica di questo paese in termini di sedi e lavoro che ne derivano lo ha detto il presidente della regione Giovanni Totti intervenendo alla presentazione dell'attività di stazioni marittime e delle ricadute economiche per Genova la presenza tra gli altri del sindaco di Genova Marco Bucci del presidente dell'autorità portuale del Mar Liguria occidentale Paolo Emilio Signorini e dei vertici di stazioni marittime Totti ha evidenziato come la sua amministrazione abbia sempre ritenuto le crociere un settore strategico per la necessaria diversificazione dei porti Liguri che stanno portando avanti un uso promiscuo molto superiore a quello di qualche anno fa a cominciare dallo scalo di Genova Totti ha inoltre ricordato che anche i dati di Confindustria dicono che la resilienza non è solo un termine che va di moda per le politiche ambientali ma anche connaturato all'economia del territorio secondo il presidente Ligure dopo Ponte Morandi dopo l'amareggiato dopo l'autunno più difficile degli ultimi 50 anni in termini di danni meteo vedere numeri e segnali positivi in Liguria dà l'idea che sia stato imboccato il modello di sviluppo giusto che ha nelle crociere nel turismo collegato il suo punto di forza Un aperitivo al buio per comprendere cosa significhi non possedere il dono della vista l'esperienza approda per la prima volta nel consiglio regionale della Liguria su iniziativa dell'unione italiana ciechi e ad annunciarla è stato il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana Presidente Piana si profila un appuntamento in consiglio regionale piuttosto particolare particolare e anche importante per riflettere è così? Sì assolutamente martedì 18 febbraio è previsto un consiglio regionale classico consiglio regionale dove vengono presentate iri interrogazioni interpellanze e quant'altro la solita attività ispettiva che ogni consigliere svolge sul proprio territorio per avere poi delle risposte dall'assessore a mezzogiorno mezzogiorno e mezzo ci sarà un'interruzione di questo consiglio per procedere con l'aperitivo al buio l'aperitivo al buio è un aperitivo che il consiglio regionale ha voluto concedere su richiesta dell'unione nazionale ciechi appunto ai non vedenti per sensibilizzare maggiormente le istituzioni e in maniera molto carina brindando completamente al buio e quindi alle stesse noi ci troveremmo sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui si trovano loro purtroppo far capire praticamente ai normo vedenti normo dotati come si suol dire cioè le persone che hanno la vista far capire che cosa vuol dire non avere un bene prezioso come la vista assolutamente sì svolgendo una di quelle attività normalissime come può essere un aperitivo bere un bicchiere d'acqua un'aranciata o anche un bicchiere di vino però in una condizione completamente differente rispetto a quella che a quello che facciamo solitamente ecco questo per sensibilizzare maggiormente le istituzioni e credo ritengo che sia la prima volta che venga fatto in un consiglio regionale quindi siamo molto felici come regione Liguria di essere i primi a intraprendere un'iniziativa di questo tipo visto che siamo stati contattati e sensibilizzati dall'Associazione Nazionale Ciechi La Polizia di Stato anche quest'anno in occasione di San Valentino promuove la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere questo non è amore l'obiettivo è quello di aiutare a vincere la paura e a rompere la condizione di isolamento e vergogna in cui nella maggior parte dei casi le vittime di tali reati versano la questura allestirà domani tre gazebo a Imperia Taggia e Ventimiglia gli appuntamenti sono in piazza San Giovanni a Imperia nel centro commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia e in Via della Repubblica a Ventimiglia dal 12 febbraio la Necropoli Romana di Albenga in Viale Ponte Lungo è tornata ad essere visitabile dal pubblico l'iniziativa è stata possibile grazie all'impegno della delegazione FAI di Albenga Alastio e del gruppo FAI Giovani di Albenga con la collaborazione della sovrintendenza Ligure e del comune di Albenga ora lo scavo archeologico può essere visitato una volta al mese dalle 16 alle 17 su prenotazione le prime date sono le domeniche 8 marzo 5 aprile 10 maggio e 14 giugno vediamo Allora siamo oggi nella Necropoli Romana di Viale Ponte Lungo e il FAI Giovani insieme alla delegazione di Albenga Alastio presenta il progetto Puntiamo i Riflettori è un progetto in collaborazione col Fondo Ambiente a livello nazionale con il comune di Albenga il condominio che ospita ovviamente la Necropoli e la sovrintendenza archeologica il progetto punta a valorizzare e a riaprire al pubblico quella che è la Necropoli Romana di Viale Ponte Lungo famosa per il ritrovamento del piatto blu che oggi è visibile all'interno della Fondazione Odine Museo Magiche Trasparenze il FAI Giovani al Bengalassio e la delegazione del Bengalassio si occuperà per tutto l'anno 2020 di aprire al pubblico una volta al mese la Necropoli Romana il calendario sarà quadrimestrale verranno date quattro date una data al mese e le aperture saranno fatte nel pomeriggio dalle ore 16 fino alle 18 in due turni con un massimo di 25 persone è una Necropoli risalente alla fine del primo secolo per quanto riguarda i monumenti più antichi che sono tre mentre il più recente che è quello in cui è stato rinvenuto il piatto blu è di inizio secondo secolo allora sono presenti appunto quattro monumenti di tipologie diverse quello più in fondo verso la parete non si può capire appieno la tipologia perché non è stato indagato a fondo a causa di problemi di acqua di risalita appunto dal terreno mentre gli altri due più antichi che sono questi due presentano un podio quadrato e delle decorazioni ipotizzate a riseghe mentre invece quello più recente presenta un recinto ed è nella parte più a destra in cui è stata trovata appunto la tomba con il piatto blu sono stati fatti dei saggi dall'altra parte della strada ma si ipotizza che questa Necropoli si sviluppasse solo sul lato diciamo di qua della strada perché dall'altra parte era presente il mare quindi probabilmente non erano stati costruiti monumenti al di là della via Iulia Augusta è una giornata molto importante quella di oggi perché si concretizza un ulteriore passo avanti nei confronti di un'offerta turistico-culturale che il comune di Albenga sta cercando di incrementare oggi abbiamo firmato una convenzione che renderà fruibile visitabile il sito archeologico sulla necropoli di Viale Ponte Lungo dove è stato rinvenuto il famoso piatto blu fa parte di un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa con la sovraintendenza ai beni archeologici che ha previsto un accordo quadro iniziale che prevedeva la convenzione da parte del comune per la gestione di tutti i siti archeologici e ora dopo il sito di San Calocero abbiamo fatto una convenzione specifica sul sito archeologico della necropoli del piatto blu per i cento anni della pittrice Bea di Vigliano la sezione ampi di Bordighera presieduta da Giorgio Loreti ha allestito una mostra nella sede di Via al Mercato per celebrare l'artista che da ragazza fu staffetta partigiana vediamo si tratta di un omaggio proprio a Bea che è una staffetta partigiana lei quando era giovane ha collaborato col fratello che era partigiano Pietro e portava notizie informazioni ed è iscritta all'ampi anzi è una testimone è un'iscritta ad onorem alla sezione ampi di Bordighera e quindi questa festa ha anche questo valore ma fondamentalmente è un segno di grande amicizia verso una donna straordinaria una pietrice bravissima una cittadina di di grande valore di grande capacità e di grande umanità la cosa non è da poco è fondamentale per noi è una sorella una sorella un po' più grande che abbia raggiunto i cento anni con questa lucidità con questa bellezza con questa generosità ci riempie di gioia e per questo abbiamo voluto fare questo piccolo omaggio di opere sue molto belle che meritano di essere viste con maggiore attenzione proprio anche come mostra perché è una bella mostra è un'offerta culturale che Bea di Vigliano ci permette di fare alla città di Bordegheira ha partorito cinque cuccioli il cinghiale che era stato salvato dall'abbattimento a Ventimiglia e ricoverato in un ranch di Camporosso lungo lato si comporta come un animale di casa e si lascia avvicinare dal personale della struttura vediamo il cinghiale di Ventimiglia che era stato battezzato Carmelo si è scoperto essere una femmina tanto che ha dato alla luce cinque cuccioli lungo lato era stato catturato dai giardini pubblici Tommaso Reggio a seguito dell'intervento delle iene vegane e in seguito trasferito in un ranch di Camporosso in attesa di trasferirlo poi definitivamente nel santuario Porci Comodi a Magnago in provincia di Milano il cinghiale ha partorito i suoi cuccioli e ha un ottimo rapporto con gli inservienti del ranch dai quali si lascia tranquillamente avvicinare come fosse un animale di casa le iene vegane hanno ora aperto delle raccolte fondi nelle città del Ponente e sui social per contribuire al mantenimento degli animali catturati a 20 miglia e salvati dall'abbattimento gli ultimi dati della Camera di Commercio di Cuneo mostrano per il 2019 una crescita delle imprese con segno negativo un dato preoccupante per un territorio come quello cuneese da sempre simbolo dello sviluppo imprenditoriale per il presidente della Camera di Commercio del grande Ferruccio Dardanello servono più infrastrutture e meno burocrazia soprattutto per sostenere la piccola e media impresa che rappresenta l'ostatura dell'economia sentiamo Presidente Dardanello gli ultimi dati che sono emersi dalla Camera di Commercio per il 2019 che si è appena concluso evidenziano un momento di criticità siamo con la crescita a segno meno e non è che si sta appannando al modello cuneo questo è un commento che viene naturale quando leggi che questo modello che oggi è studiato per la sua diversificazione economica per la sua forte pregnanza all'interno della nostra realtà socio-economica sta incominciando a perdere dei pezzi ti devi anche chiedere il perché se le motivazioni sono quelle della mancazza capacità di fare impresa all'interno della nostra comunità oppure la mancazza la difficoltà ulteriore a continuare a fare impresa in questa nostra comunità e i processi che in qualche modo vanno a caratterizzare il mercato mondiale in qualche modo vengono anche a farsi sentire all'interno di una territorialità come nostra che vede in modo particolare nella piccola nella piccolissima impresa il protagonista più importante in termini numerici in termini macro le nostre imprese continuano a essere protagoniste bisognose di quella infrastrutturazione di cui parliamo da sempre che purtroppo continua a mancare bisognose di aver meno burocrazia che gli va in qualche modo a rendere complicata la vita ogni giorno bisognose in modo particolare di nuove attenzioni che vengono meno a creare le condizioni di nuovi investimenti quindi nuovi investimenti che arrivino da qualche angolo del mondo non soltanto per comparare i nostri marchi che sono vincenti ma per far sì che qui si venga a produrre nuovamente perché vi sono le condizioni per poterlo fare e sono le condizioni che in questo momento rallentano un po' tutte le economie italiane anche in modo particolare l'economia piemontese e quella di casa nostra il piccolo soffre soffre terribilmente sempre di più la piccola impresa non trova le condizioni per potersi in qualche modo ulteriormente avvalorare sul mercato e purtroppo in queste ultime stagioni risentiamo inevitabilmente di segni meno nel mondo agricolo nel mondo artigianale nel mondo commerciale io credo che sotto gli occhi di tutti quanto la piccola impresa che è stata una delle ragioni per far crescere il modello Cuneo oggi sia in difficoltà e abbia dei problemi da affrontare e delle soluzioni che io non vedo all'orizzonte ecco in un paese che vive di imprese come il nostro e a casa nostra c'è un'impresa ogni 5 abitanti e mezzo vuol dire che in ogni famiglia della nostra comunità c'è un'impresa non vedo politiche che aiutino in questa direzione a far sopravvivere le aziende marginali o a dare nuova prospettiva a chi magari ha la volontà anche di iniziare nella propria vita lavorativa facendo l'imprenditore quindi credo che politiche in questa direzione debbano essere assolutamente previste nel breve per cercare di creare condizioni ad esempio nei centri storici delle nostre città di non vedere ormai un deserto di sarande che si abbassano l'abbiamo detto in tante occasioni ogni saranda che si abbassa ogni insegna che si spegne è un pezzo di città che muore le nostre città devono diventare e continuare a essere un richiamo forte anche sul piano turistico sul piano anche poi dopo della vivibilità perché vivere una comunità senza avere i servizi e quelle luci e quella sicurezza diventa complicato e difficile tutto il mondo poi dopo dell'artigianato sta soffrendo sotto gli occhi di tutti in modo particolare in alcuni settori c'è stata una moria incredibile in questi anni legati anche alla crisi di quella manualità che era stata per anni l'elemento cardine della nostra crescita la piccola impresa agricola che ha difficoltà a produrre e poi dopo avere anche il riconoscimento delle proprie produzioni sul mercato quindi c'è una complessità di problemi che credo urgano urgenza di attenzione e non mi pare che all'orizzonte onestamente in questo momento vi siano politiche che vadano proprio a dare supporto e beneficio a questa piccola impresa sulla quale io dico vive il nostro paese perché qui non siamo solo un paese di poeti di santi e di navigatori siamo un paese di imprenditori e quindi se non c'è l'impresa all'interno di questa nostra comunità non vedo le ragioni per creare occupazioni per creare futuro a chi sempre nell'impresa ci ha creduto in tutti questi anni passati e adesso l'angolo di Daniele Lacorte che oggi ci parla di nascite in Italia sembra fatto apposta ma trovare notizie belle in questo periodo non è facile cerchiamo ogni angolo ogni fonte ma più che situazioni tragiche non saltano fuori vorremmo darvi notizia che diano senarità ma la quotidianità ci porta soltanto fatti tristi anche sul fronto delle natalità l'Italia per quota di popolazione continua a diminuire dall'inizio dell'anno cioè dal gennaio prendendo in considerazione gennaio i residenti del bel paese risultano essere 60 milioni 317 mila sentite bene 116 mila persone in meno all'anno il rapporto annuale dell'Istat sottolinea che su 100 persone morte nascono 67 bambini 10 anni fa le nascite erano di 96 unità l'anno scorso è stato il periodo di nascito più basso degli ultimi 102 anni l'altro dato che va ad inserirsi nella statistica è che la speranza di vita per le donne è di 85,3 anni per l'uomo 81 inutile ripetere qual è il sesso forte è il momento di dare uno sguardo alla situazione cantieri lungo l'autostrada A10 e A6 tronco a 10 Savona 20 miglia confine di stato direzione italia carreggiata a sud tra borghetto santo spirito e pietra ligure carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione dal 10 al 14 febbraio tra finale ligure e spotorno chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della galleria Rocca Carpania dal 10 al 14 febbraio direzione Francia carreggiata nord tra spotorno e finale ligure chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della galleria Rocca Carpania dal 10 al 14 febbraio tronco a 6 Torino Savona direzione Savona tracceva millesimo carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile tra millesimo e altare chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Tappello Sud fino al 12 marzo tra altare e Savona chiusura della corsia di sorpasso per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro fino al 29 febbraio tra altare e Savona restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di rifacimento dell'impalcato viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile direzione Torino tra millesimo e ceva restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile tra Savona e altare carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile siamo giunti in chiusura grazie per averci seguito e buona serata grazie per averci seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti